Siamo con Guido Piccoli, scrittore e sceneggiatore della graphic novel Escobar. Volevamo chiederle innanzitutto un quadro di questo personaggio che sappiamo essere controverso e se ci sono alcune caratteristiche che lo rendono unico o comunque diverso dagli attuali dominatori del narcotraffico internazionale. Io dirò una cosa che apparirà esagerata ed eccessiva a tutti. Io credo che non ci sia nella storia non solo del narcotraffico, non solo nella delinquenza ma anche nella storia recente dell'umanità, non mi spingo a dire nella storia dell'umanità in assoluto, nella storia recente, un personaggio così forte, esagerato, contraddittorio anche che accanto al sicuro male, essendo il capo del narcotraffico, ha anche fatto e l'ha pagato con la vita qualcosa di bene, nel senso che viene ancora ricordato dai poveri di Medellin e non solo, ma alla fine se è stato ucciso, è stato ucciso per qualcosa che noi consideriamo un valore che è l'amore per la famiglia, perché questo è stato il suo tallone d'Achille, quindi un personaggio eccezionale. La Colombia è un paese che lei conosce molto bene e riuscirebbe a tracciare un quadro della Colombia attuale dopo gli storici accordi di pace del 2016 e che analogie e differenze ci sono con la Colombia di Escobar. Ma nella sostanza è cambiato poco, nel senso che le società vengono definite soprattutto dai rapporti sociali, da quanti ricchi e quanti poveri ci sono, i ricchi non hanno fatto altro che diminuire come numero ma diventando sempre più ricchi e i poveri sono aumentati e questo lo si può dire anche rispetto al narcotraffico. Escobar è stato ucciso ma la droga ha continuato ad essere inviata verso il nord del mondo che la compra e l'unica cosa che è cambiata è la forma. Una volta c'erano grandi cartelli, il primo era quello di Escobar e il cartello di Medellin, adesso invece di 3, 4, 5 cartelli ce ne sono magari centinaia che quindi attraggono meno l'attenzione e poi nessuno dei leader di questi cartelli o cartellini pretende di invadere un campo, e questo è stato un altro errore di Escobar, il campo della politica. Perfetto, grazie mille. Ok, a posto, grazie.